Ben trovati con il nostro appuntamento con Rack Magazine, insomma tantissime novità, specialmente da casa Palacanestro Viola si è palesato finalmente, nuovamente, il presidente Carmelo Laganà con tante buone notizie che ancora devono utilizzarsi e tante anche perplessità, specialmente sulla vicenda legata al Palacalafiore con il Nero Arancio ancora fuori dall'impianto, aspettando il via da parte del comune, all'interno di una vicenda molto problematica tra le due parti, ad ascoltare insomma quello che è stato con la regina riguardo il Sant'Agata e il Granillo, qualche perplessità sulla disparità di trattamento tra le due realtà cittadine, viene, viene assolutamente, ci guardiamo in servizio su quello che sta accadendo nel mondo del Nero Arancio e poi torniamo per parlare di Palacanestro. Da leggere tutto ad un fiato, il presidente Carmelo Laganà dopo un silenzio personale che durava dalla conferenza stampa del febbraio scorso, ritorna a parlare. Sembra passata una vita, momento più che problematico dovuto a un roster costruito in fretta, in ritardo, il regolamento federale pessimo che aveva spedito la Palacanestro Viola in campo contro le formazioni di Friuli, Lombardia e Veneto, le casse ballerine, l'addio a Renzi e gli sponsor latitanti al momento dei pagamenti. E oggi il presidente Laganà si palesa sulla testata online, stretto web, carico e determinato. Non le manda a dire sul discorso palacalafiore dove i tecnici del Comune di Reggio Calabria, uomini nelle commissioni e chi volete voi, hanno nuovamente fatto passare un'estate nonostante i lavori in corso nel massimpianto reggino senza risolvere la grana vigile del fuoco. La stessa fu segnalata a gran voce addirittura quattro anni fa nell'anno di Cisilver con Paolo Moretti alla guida dall'ex addetto stampa Francesco Creazzo, dove per tempo anche in questa stagione si sperava di avere finalmente una soluzione. Insomma, occorreva trovare un escamotage mai arrivato per chiudere anche provvisoriamente la parte superiore del massimpianto reggino. Tutto questo per evitare il pagamento per partita della somma di quasi 1500 euro. È vero che Nero Arancio hanno dei problemi nel gestire i costi del massimpianto reggino, ma nel sentire le dichiarazioni del sindaco Brunetti rilasciate proprio su Reggio TV a fuorigioco sulle cifre che dovrebbe versare la precedente gestione della regina per gli importi mai pagati per usufruire lo stadio Arresta Granillo ci viene un po' da ridere. Il dato più importante invece sono le 15 richieste di acquisizione del club della pallacanestro Viola. È ovvio che lo zampino dell'avvocato di Cintio in combutta con Marcel Vulpis, entrambi hanno il compito di trovare una nuova proprietà, sta funzionando. La trattativa più avanzata fa scalpore e alzapore calcistico, anche perché da quel che palesa l'articolo la trattativa con MyEnergy, azienda attiva con forti profitti sul territorio nazionale, ma con sangue ionico di Saline, sembra attivissima. Al timone c'è sempre un Foti, non è Noel Damien, autore della trattativa estiva poi saltata, non senza polemiche, ma Antonio, conosciutissimo partecipante della cordata perdente, quella col dottor Bandecchi, sindaco di Terni per capirci, per acquisire la regina nel calcio. Certo, affiancare nuovamente la cittadina di Saline è un sapore particolare per i colori nero-arancio. La disparità economica tra calcio e pallacanesto è conosciuta da tutti. Probabilmente una nuova proprietà del genere potrebbe fare decollare verso le categorie che merita il sodalizio nero-arancio. Sarà la volta buona, lo scopriremo prestissimo. C'è tantissima carne al fuoco, Rende ha giocato il primo test contro il Sala Consilina, non ha giocato il secondo anche perché era indisponibile l'impianto del Potenza. Ritornerà in campo giovedì nell'amichevole contro la pallacanestro-viola con la speranza che si possa a questo punto giocare. Pallacanestro-viola invece reduce dal match giocato in casa contro la Dier. In questo tour di partite esordio anche per gli Stingers, formazione che parteciperà da matricola. Al campione di Serie C, unica, ha esordito un amichevole conto, Fortuco Messino, ovvero una delle avversarie della pallacanestro-viola e del Rende in Serie B. Si muove tantissimo il basket mercato, il colpo in canna per Piazza Almerina e Marco Laganà. Dobbiamo ancora aspettare probabilmente attorno al 20-23 di settembre per questa firma clamorosa per l'Atleta Regino, che andrà a impreziosire ancora di più il girone super appassionante di Serie B interregionale. Si potenziano Castanea, si potenzia Capodorlano, sempre più forte, probabilmente la squadra da battere. E tante formazioni stanno già giocando le varie competizioni ufficiali, come per esempio la Coppa di Sicilia. Per quanto riguarda invece la Coppa Calabria, edizione super ridotta, con due formazioni in C aderenti, ovvero Stingers e Catanzaro, dopo il forfe della Dier, e tre partecipanti dalla Serie D, ovvero Alan Basch e Gioia Tauro, Basch e Pellaro, Basch e Soccorso. Rumor si arriva dalla Serie D, chiamata adesso Serie DR1, ovvero la Viss Reggio è prontissima a grandissimi colpi di mercato, come i ritorni del trio Rizzieri Warwick Tramontana, che promette di strabiliare e vincere il torneo regionale, quello che è diventato tristemente il massimo torneo regionale, aspettando tempi migliori. Si muove tantissimo anche il basket in carrozzina, nuovo colpo per il team Amaranto e la Reggio Bic, ci guardiamo in servizio e poi torniamo qui per parlare di paracanestro. La Reggio Bic aggiunge un altro tassello al proprio roster, si tratta dell'atleta polacco, Chris Pietrik. Ancora un rinforzo per la compagina Amaranto, dopo Beltrame e D'Aorta, alla corte del coach Gugliano, firma il polacco, reduce dalle ultime due stagioni all'elite francese, prima con il CTH Lennion, poi con la Yes Eikot du Vele, con quest'ultima trionfante, con il titolo della Coppa di Francia e con il secondo posto in campionato. Il polacco non è la prima volta che gioca in Italia, anche perché nel 2010 giocò nel Porto Torres, quindi conosce già la realtà del basket in carrozzina, tricolore. Va sottolineato che dal 2005 gioca con la nazionale polacca, con la quale ha giocato sia i campionati europei che i campionati del mondo. E ultimo, ma non meno importante, i giochi paraolimpici. Ho scelto di nuovo il campione italiano perché mi piaceva questo modo di giocare della Serie A. Ha commentato Chris, voglio dare molta esperienza alla squadra e portare il club in alto nel basket in carrozzina, provando a migliorare anche il risultato della scorsa stagione. La mia scelta è ricaduta su Yamaranto, anche perché disputeremo l'Euro Cup a concluso, ma anche perché Reggio è una bellissima città dove posso vivere andando ad allenarmi e giocare. Momento di amichevoli, momento importante, amichevole, come detto, zoom sull'amichevole del derby Reggino tra Pallacanestro Viola e DR. Abbiamo ascoltato il coach De Nero Arancio, Federico Cigarini, che lancia un appello alla città, e il capitano della DR, rientrato dalle ferie e dalle vacanze in Colombia, a Medellin, ovvero Luca Laganà, che analizzano questo match. Ci riguardiamo e poi torniamo qui. Ci ritroviamo per la prima volta di Visu con coach Cigarini, ben trovato a Reggio Calabria. Come sta andando? Tutto procede bene, abbiamo iniziato da dieci giorni, tanta atletica, poco basket, abbiamo fatto solamente quattro allenamenti, due di fondamentali e due di squadra. Oggi è la prima amichevole, primo vero test per un 5 contro 5 di intensità. La squadra avversaria mi è piaciuta molto come approccia le partite, non ha mai tirato indietro un colpo, che cosa che a noi serviva. Una cosa sulla mia squadra, tutto molto bene, dobbiamo imparare a tenere i contatti e a non lamentarci con l'arbitro. Questa è una cosa su cui dovrò lavorare tanto nella testa dei giocatori. Oggi ci siamo lamentati troppo e questo invece è un campionato dove sarà molto fisico e con molti colpi bassi. Allora, adesso non c'è più nessuno perché siamo un po' spartita, ma per chi ha visto i nostri filmati, era tutto pieno, hanno dovuto addirittura mettere una tribuna in più. Tu arrivi e sei stato in tantissime città di basket, bisogna riaccendere un attimino e questo è un bel primo segnale. Allora, prima cosa che ho detto ai giocatori negli spogliatoi è stato noi siamo qua per riportare entusiasmo e gente al palazzo, poi parleremo di vittorie sconfitte. Oggi è stata la prima amichevole con due squadre ancora non pronte e c'era una marea di gente, la cosa è stata bellissima, veramente, sono state 200 persone, 150-200 persone, bene, questo è un ottimo inizio. Io ripeto, il nostro primo obiettivo è riportare entusiasmo e portare gente al palazzetto. Venite, venite, venite. Buon lavoro e ci vediamo prestissimo. Grazie mille, buon basket. Quando sei tornato innanzitutto? Tre giorni fa, ho ancora il fuso orario, lo so spaltire, sono sballato, però va bene, sono contento. Un commento su questo test? Ma secondo me siamo anche più avanti rispetto a quello che obiettivamente pensassi, al completo siamo allenati sì e no quattro volte, perché comunque sono mancato io, la settimana scorsa chi è arrivato un pochino dopo, quindi ho fatto quattro allenamenti al completo, però bene, è una squadra che secondo me promette bene, sicuramente ci dobbiamo conoscere meglio, dobbiamo imparare a rodare e a odiare un po' i meccanismi, però bene, sono contento. Visto, Saverio insieme ai tifosi che montava, stava facendo la tribuna, sold out anche questa sera, è bello. Ah, promette benissimo, dai, se il buongiorno siete al mattino, ho giocato questa prima partita, poi sicuramente il fatto di aver giocato un derby come prima partita sicuramente ha aiutato, però noi siamo abituati a giocare con il nostro pubblico, il nostro palazzetto sempre pieno, sappiamo che è un'arma in più e proveremo a giocarci tutta la stagione. L'impressione sul tuo avversario di questa sera? Guarda, io conosco il coach Cigarini da tantissimo, è un ragazzo super e sono sicuro che riuscirà a dare la sua impronta su questa squadra, conosco anche ragazzi come Binelli, conosco altri che comunque ho incontrato in altre categorie, quindi sono molto contento per il mio Dommaso e per Paolo che è in panchina, quindi spero solo che possano fare bene, glielo auguro con tutto il cuore. Bocca al lupo. E' veramente tutto con il nostro appuntamento settimanale, torneremo anche perché come è accennato la vicenda di Totò Di Saline appassiona, appassiona tantissimo perché potrebbe essere una svolta economica non da poco per le cast del club del presidente Laganà e ce lo auguriamo anche perché in questi ultimi quattro anni ha speso davvero tanto il numero uno di Nino Arancio. Torneremo aggiornandovi su questo precampionato, un caro saluto e alla prossima!